Rinaldi. Sentendo i colleghi in aula, ho capito che la preoccupazione maggiore è quella di chiedere la ripetizione del referendum nel Regno Unito. Magari finché poi il risultato è quello gradito, la democrazia funziona in un'altra maniera. Nessuno ha chiesto d'altronde in aula, quando la signora Ursula von der Leyen è stata eletta, soltanto per nove voti. Nessuno ha chiesto la ripetizione, anche se la metà di questo Parlamento non era d'accordo. Vorrei semplicemente ricordare che il Regno Unito è acquirente netto di beni e servizi da parte dell'Unione. Cosa significa penalizzare il Regno Unito? Dopo a chi venderemo le nostre automobili, a chi venderemo i nostri derrate elementari, i nostri macchinari? Allora cerchiamo di metterci d'accordo, ma soprattutto cerchiamo di riunirci in modo propositivo. Quando si è voluto andare nei confronti del supporto del sistema bancario, ci sono state delle riunioni anche di notte e immediatamente si è trovata una soluzione. Nei confronti del Regno Unito, perché non si vuole arrivare a una soluzione. Io propongo a tutti i colleghi... Il tempo è scaduto, grazie. Mi dispiace, il microfono l'è stato tolto.